E care proline, finalmente vi presento una cosa rivoluzionaria, felicissima di farvela vedere, grazie a Invel, i miei corzaro! Allora è meraviglia? Sono morbidissimi, si indossano perfettamente, la mia è una M e vi dico che le taglie con cino le corrispondono. Spettacolo, sono comodi, comodissimi. Questi li possiamo portare sia sotto gli abiti dal lavoro, tipo io che lavoro in ospedale e devo stare tantissime ore in piedi, quindi me li metterò tutti i giorni. Ci possiamo anche dormire, ci possiamo fare sport, insomma una vera rivoluzione per avere un defaticamento e una cosa importante, un massaggio anticellulite per me donne è importante. Però per me sinceramente la cosa principale è il fatto che stanno tantissime ore in piedi, avere questa tecnologia MIG3 di ossido nitrico che va ad agire sulla nostra circolazione, facendo in modo che si abbia questo defaticamento fino al 70%, per me è fondamentale perché sapete che stando tantissime ore in piedi arrivo a fine turno e sono spappolata, veramente. Quindi in abbinamento con le solette non avrò più problemi, naturalmente ho preso le solette anche per Michele perché sapete che le gare quindi anche per gli sportivi le solette sono fondamentali e nei prossimi giorni vi farò vedere anche Michelon. Intanto vi mando un bacione grande grande a tutti, ringrazio la Invel, mi sono fatta questo regalo perché grazie alla collaborazione ho scoperto questa fantastica azienda fatta di persone, fatta di cuore e io sono felice, 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 guardate che meraviglia i miei corsaro, sono proprio belli, 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 belli. Un bacione grande a tutti da Frollina, ciao!